Siamo quarto e quinto Mattia Inghiette reggiano i miei verso B Va giù Proma K Vogliamo pulsare nele a due Non ho crociato disturbo Pusciano top raga 3 3 3 3 Buono Ho crociato Ti torna indietro Uno lì Uno lì Parliamo a due Una sola Un altro top che viene sulla nostra La larga a destra è un uomo No ne ho una a destra Ce n'è uno lì davanti 3 3 3 Ho sponato Arrivo ora Uno lì 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 Rientra Rientra Mi dal marte Sono due a subì ragazza E' solo il full, è solo questo qua! Vado dietro, dietro! Vado a terra, vado a terra! Vado a terra, vado a terra! Vado a terra, vado a terra! Full, c'è successo! Allora, top! Piamo B! Rigirano, rigirano, raga, come prima! Ok, ok, va bene, va bene! Sì, sì, va dietro! Arrivo Dario! Sono in tre ora! Arrivo altri due! Ne sono altri due! Tre è nulla! Due, due è nulla! Oh! Ah, mi sta cercando! Forse bisogna subire, gara, eh! Vabbè, gli arriva il colpo prima! Che palle! Spara per primo! Ma ho dato! Come ho fatto non andare giù, Snippets? Sì, forse bisogna usciarla loro, se non è vero! No, no, no! La nostra, o la loro! Uno! Uno subì! Uno subì! Guarda! Guarda, che ponte! C'è uno! Sono morto! C'è una pitta era, raga, veramente! Ma è, ma è, ma è... Semplicemente qua dove ho muo... E Dario tu devi backare! Non devi farci allengerselo! L'ho fatto! Ne hanno bussato molto velocemente! Lasciò che la nata c'è canti! Boh! Eh, ne ho due po'! No, vedo che c'è un po' da fare con me! L'ho lasciato, ma... Boh! No, no, no! Beh! Che strozzata che ho visto! Si è fatto in kill! Ma no! Si! No, io ce la volevo lasciare! Ah, non ha senso, no! Non è che la inseguita, però... Non ho vero! Non ho vero! Capito! Come fa? Guarda, guarda! E' il dito, il dito! Anche dito, anche dito! Anche dito, anche dito! E' va bene! Famato, devi pushare però! No, per favore! Per favore! Per favore! Non posso stare! Io non posso, posso, cioè è proprio impossibile! Devi andare uno di quei due che va subì! Eh, dovevamo guardare! Vado, vado! Vado, vado! Ci sono! Buono Matteo, se riesci, stai in vita! Sì, sì, sì! Sono morto! Sono morto! Sono morto! Sono morto! Sono morto! Sono morto! Vieni, vieni! Dovrei ben dietro al giro! Ti pusha! Ti pusha! Ti pusha! Ti puoi! Vado su, qui! Pushamolo! 2-1! Appena passa il treno! Aspetta, aspettami! No! Ma questo treno è di 0-0 fra 0-0-0-0-0! Eh, 78! Passa la mia! No, non passa! Eh, ne va bene! Matteo doveva busciare da destra! C'era il treno! Vado ad aiutarti! Martini se posso! Io c'ho due top, raga! Ah, ok! Mi pushano! Vai giù questo! Vai giù questo qua! Spottato! Raga! Cappate! Cappate! B! Vado! Vado a cappare io! Vado a cappare io! Vado a cappare io! Dai 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 dai! A terra, a terra, a terra! Ok! Mi potete rianivare voi! Mi sono dietro! Grazie, grazie! Manzierati! Manzierato! 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 No, raga! Torna indietro, Matt! Torna indietro! Esiste, no! non hanno tappato una gira 2 è subito si sta arrivando un numero di numeri arriva su subisco guarda guarda un po' l'azione passa la mito c'è il treno non c'ho preso e c'hanno la flash incracciamo non c'ho più vita ma non muore ma non muore ma non muore ma non muore un altro ancora un altro che cazzo l'ha visto bella fra una one shot una one shot una lomba raga vabbè 31 31 arriva un uomo manco loro hanno più vite dai prima ci sta il dimart bella la flash c'è proprio la flash guarda la vita c'è uno vado a terra può pushare ex buono pushare 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 raga non c'ho la flash per pushare anche io alzami buono ragana buona è uno vinto subito subito basta breccare una volta qualcuno gli arriva a prendere qualcosa guarda bellissimo bravo guarda 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 adesso ho sopra doveva camminare in bordo scatto un poco no un lavorecchio scherzo proseguire va giù fratella giù sotto watch out watch out no li tagliarono in due matti devi venire di buono è la flash però però indietro guarda matti che deve scendere diretto come allora vai dunque no no lui deve entrare diretto capito come ok devo vedere dire sono due usciamo troppo dai a sto punto siamo sotto la due la stola loro alla scala adesso guarda dietro la one shot down buono uno dal middle dal middle raga due dal middle snipe posso smovermi oddio ma che fa no vabbè raga ma che fa uno vi torna indietro indietro quattro in home perché nessuno subì quattro in home uno in via uno in via uno in via uno in via ma quattro boll ha fatto una buscata che teniamo a correre su direttamente la montata al middle ne abbiamo due middle ok ho sparato ho sparato cazzo mi sono due mid due middle proprio al centro ok ok uno si è girato verso il terzo guarda 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 una dietro eh ho scusa una ma ma l'ha battuta dal dietro raga scuso guarda non è andato no non è andato perché calcola che si è ancora in gioco stai arrivando ecco no non è morto non è andato sb abbiamo uno in b eh dalle buona 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 ex brecca brecca sole se non altro ancora dai non muore porco dio gli spari in gola credito ovvio vado bravissimo bro gli hai fatto perdere ok vinciamo ma nessuno di noi ha più io non posso più risponare devi uscire questa ma devi fare per forza è arrivata a mid fra bravo sono una ora se fu c'è un tren rimani copri b copri b ma abbiamo lo stesso no forse sei uno v1 no 1v2 1v2 successo vabbè 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 non c'è fatta capire nulla quella gente in di fra se non riusciamo a capire nulla non c'è capito come possiamo sperare visto che intima ora non c'è vabbè abbiamo tre raga poi c'è attrazione raga li sto flancando subito ok c'è uno sulla loro no mi pusho uscino via qui forse no è andato dietro intanto devono pusher loro prossima è uno top occhio che devono pusher loro non morite stanno flancando la loro è rosso è rosso questo qui pusher tutti me arriva non rossissimo uno vai mantis vai mantis vai mantis vai vai snipe snipe una terra raga no no sono davanti no 2 no 3 4 4 4 la terra guardate questo non rimani in piedi ma lo diciamo mi avete detto ho cambiato lì vai giù il mio cappello mi sono fai di mostro ho scoperto tu sei raga mi sono andato in middle e perché sei dovuto andarmi dal frutto ho visto che nessuno c'era io ho la flash pronti al 3 uno che guarda il mid posso uscire da me posso perché dovrebbero avere anche la shock se ne arriva uno Dario si sento i passi sa che c'hanno due Dario sentito troppi passi non dietro è già non uscire in caso è tutto dai la vado giù però è un po' è un po' è un po' va a fare il culo sempre agli altri molli no no che cazzo si fa a tendere a terra a metterla? la salata la... eh... è morto da me no perlopiù che siamo smerdati con le armi ragazzi cecchino io non c'ho la flash c'è uno che sta a scopo nooo ma che sta roba lo ho caffiato 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 lo ha caffiato lo ho caffiato e droga non sposa un tanto no spatono ehm assi spunendo siamo un coglione giustamente tanto non gioco a sua vabbè testa hanno le moto ti muovi mentre sparite se smettete adesso sarà la nostra fine voi combattete per tutti noi guardate questa destra il mio penso sia middle si si aspetta la flash 321 e ma il nostro show anche a me è successo anche a me vado giù vabbè è certo la famiglia non ricollenza da tre chilometri che cazzo il cecchino vabbè provare per la loro volendo vabbè in quattro qua in quattro qua in quattro qua mantis io sto qua io sto qua a sinistra a destra uno due tre vai per quello che non devo venire anch'io perché poi c'è lì è dario che deve fare adesso c'è la vuol dire che non ce l'ha ma davanti allora chi cazzo che non ce l'ha il mio contatto male io ne avevo uno davanti proviamo l'ultimo push è molto bene oh no è una 1 middle provo a andare questo 1 shot fluente questo è push ragazzi ma non è ragazzi ma dove cazzo siete 1 l'ho messo 1 shot ragazzi wow ragazzi wow ho messo a terra fluente che la pompata ha fatto 84 di surbed vabbè rosso oh dietro ma c'è vabbè vabbè paolo che dite oh no mantis mantis è vera che so sponare non c'è per me se non riusciamo a tenerci in vita come possiamo sperare di vincere questa è buona guardate la tiro a questo guardate ma c'è solo uno guarda guarda è fullissima è giù è giù è giù a terra è la planca shock attento fran non si voglia ma ancora raga ma io ne ho diventato un po' è santa parla nooo c'è una pazienza è la planca è la planca è la planca forse si guarda che ci crepo a terra 2 contro 2 ah buona ok poi c'è anche 6 a buccia a terra sono matta no di merda occhi occhi mi incrociano questa one shot eh fra vado sopra vado sopra muoio si 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 stanno agli atti ti ho spawnato ok lo stil non ha flash eh vabbè non muore che palle poi in blank l'ho costato ho costato la costata passo all'interno occhio al middle solo da me guarda io che dici che dite li frenco per mid ma stavo flencando la C'è la część Spawno in 4,3,2 Sties Patricia Lax Die andiamo 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 la scuola ragazzi voi vuoi te le telegase sulle full un colpo si da sacco eh scuola non rimani infiamile nemmeno una beva così si fa i numeri ragazzi riabituatevi a chiamare i numeri 0 middle 0 middle buona buona il mio non lo vedo più occhio dario occhio dario ancora la flash io raga ancora la flash anch'io buona k k k attento attento è shock è morto non so se l'ho messo si sta guardando a special la flash non se la aspetteranno mai 3 2 1 vai buono arriva un'altra flash k k k k k k trovate se vado giù vado giù vado giù ucciso middle vabbè madonna c'è un po' a destra non so non so ma li basta abbracciare se entra la sua siamo in 4 ho preso uno uscate guardate il rock dai buona vado sulla loro no 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 ho preso la loro ci stavano ci stavano ci stavano ci stavano anche io ci stavano andare ad aiutare exor avevo una sola loro no ma perchè non volevo pusharmi in bocca sei 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 sono tre sono tre è passata middle flanca in sé un'altra flash, un'altra flash, un'altra flash, avanzate no, sono morto, sono morto mid, sono morto mid ragazzi, si flanca, si flanca l'下 zappadhio, scappa della nostra, c'e la nostra, e 2, 2, 2 sui, 2 sui, 2 sui, 2 sui, 2 sui, 2 sui, 2 sui. F bean frick, ma non basta la nostra, abajo non basta, va bene Spawners, 1-2-1. Spawno, proviamo di cappare. Decappate! E no, ma mi sa, vero? No, mi sono, sì, sì, no Fai male Un tre, sui, un tre Un tre, sui Arriva anche io? Non si farà niente, ormai Non so, no Staci dentro, immagrici Staci dentro, staci dentro Staci solo, no No, Matteo È il 74 Avete dato tutto Luschi Ma non è stato abbastanza E ora la nostra fine Si avvicina Tripoluschi Guarda, bandiera della Svizzera Mille cose Che cazzo sa il mille Cocco Due tappi, no, due tappi Uno taglia diretto Uno taglia diretto Uno taglia diretto Uno taglia diretto Ho uno con la flash mid Tre, tre, tre Taglia Guarda, io non sono full Non ho taglia Ho viento, sui b Buonate arrivare al Svizzera Va bene Va bene Dietro Svizzera Dietro, dietro 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 Sui trenno Siiii Ma lo troppo Tripoluschi Guarda, ti fa cogliardica Sto arrivando la piste Nel senai Dai Vinci, non ci piglia Allora, che cazzo pucci Eh, va bene Devo prendere un po' Eh, ho capito Però Mi boda Raga, mi chiedono ma si però non lista di lancer che siamo da loro ragazzo ragazzo 23 arrivato a più sono tappi di questo altro se l'india di quello di merda arriva sto scalando top e raga una mano veloce ma non so neanche come ha fatto a uccidertelo te lo giuro non pensavo neanche che ci fosse qualcuno abbiamo tanti punti ragazzi siamo un attimo fermi secondo me non perdiamo aspettiamo un attimino ragioniamo non moriamo più dietro l'ho risponato lasciatissimo ragazzi in culano così andate top non andavamo per fare vincevamo non è un po' non è un po' non è un po' non fa giusto ma giusti ma non lo ho spawnato non moriamo ne vincamo ma tu vedi una reazione al primo che è davanti triple guardia su tutti i forti di me Uno alla volta massacreremo questi umani Ma cazzo state passando per andare a vinto C'è altro, uno che è sempre il top Che ne ho due Io ce n'ho uno Buona, buona, buona C'è una macchina che mi taglia la top Eh bro, ce l'ho detto che ne ho sempre il top E ci sei Eh, mi hanno fatto in due pure Ho perso bene No, è arrivato No, sai questo Ci sei No, dove ho andato Arriva l'ultima linea Dunque non è OP come prima il coltello, Dario Ragazzi, riusciano su B Arrivo su B Top, quanti siete? Io ne vedo uno Arrivo top B, top B, top B Mi ritorno Mi riusciano, mi riusciano Quanti sono su B, quanti sono su B Uno, uno, uno Io ne vedo uno, due, tre Mi sa tre, tre Tres Ando sul top tre Posso provare a passare da me Due, io ho due B, uno top B e uno B Passiamo Sono passato da me Guardate questo Pucciate questo Prime Ho preso Quanto ce n'hai, vetti, quante ce n'hai? Sono tre, raga Sono presto Vado giù, vado giù Vado giù No, ce n'ho Guarda, 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 è sciuto, è sciuto Guarda, è sciuto, è sciuto Guarda, è sciuto No, va bene, ma come ha fatto? C'era Vabbè, dall'li sotto Vibrazzando da coppia 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 Vabbè, che palle Vabbè, un colpo mi dà Arrivo e ti saliamo a manovere Se riesce C'è una dura Stavo a flashare del tempo Sabe Vabbè, dov'era questo Dov'è che era? Beh, era al corridoio Non so, un corridoio Grazie Sì, buono Vado giù Vado giù Sono più Più c'altro, minchia Ma non riesco Sono chiuso Tritano da ovunque Più c'altro, ma a te, minchia Posso più dire dove è? Di dove cazzo è? Non dove era E non so che i nomi Come si chiamano Corridoio Non so Non c'era uno con me Mi incura Non devo andare via Eh, Steve Arrero su Aston, su P Steve Andando a terra E alzo, te alzo Non dici next C'era uno mido Un colpo, un colpo Taglio da mido Aspettate, taglio da mido Eh vabbè, da dietro la capa Mi taglio il top Taglio il top Sta arrivando Temporezza Sto imparaggendo Sto imparaggendo Sto imparaggendo Ho detto che tagliava dal middle È full red, guarda È full red, guarda È full red, guarda Ho B, raga Ho B, eh Un altro taglia middle Arrivo, arrivo È full red Aspettami Non è Non arrivo, arrivo Settanta Settanta Occhio raga, basta andare una alla volta Vabbè, che pumpata Sì, vabbè, mi vanno andato Vabbè, raga, però Eh, andate una alla volta, madonna Uno subito Mi ha detto che l'ha fatto full, ma Mi dà il B, mi dà il B, mi dà il B Guarda la terra, guarda la terra, guarda la terra One shot snippets Sto a beccare Non abbiamo due Non so, Massimo, stracchiosi Lo faccio incrociare anche da top, raga Andiamo indietreggiare Raga, quello da top Che non lo facciamo? Non lo sapevo Che non lo vanno più vinta Oh, gli spari poi in black Li passa sempre attraverso Non so, non so, non so Ah, raga, però One shot, Matteo, Matteo, one shot Matteo, one shot Mi tagliate da mid, mi tagliate da mid Perciò, mi tagliate da mid Passo anch'io? No, niente, non passo Solo quantissimo A weak, weak Allora, gno tre qua, com'è? Down, no A terra Buono Oh, passata, taglia uno Taglia uno dal sotto Vedi prof, guardate Va giù Arriva È rossissimo, l'ho distrutto Arriva, still Ok, penso di aver risolto con la nida Raga, allora Guarda Gli altri due giocano a top Praticamente Eh, il mattino deve andare Quanto è middle No, ma È arrivato mid Quanto è middle È arrivato È arrivato Il verde, il verde, il verde Il verde, il verde, il verde Snipe, snipe, snipe Sono full, sono full Non ci sono organizzati bene lì Allora Due, due middle Uno top Non ci avvio, ragazzi Ma mamma mia Ma mamma mia Mi ha detto Ce l'ha distrutto Middle E posso C'è la flash L'embar è culo Potrei sfondarlo Lo flascio io L'embar Vai No, guarda Che figlio No, non ci credo Bravissimo No, non si è sfondato L'embar Madonna Puttana L'ha visto che gli è caduto davanti Ha fatto la giocata della pitta Ha già fatto Infatti la fish Che è in bocca Con B Che tolgo la loro Eh, vabbè Ma questi sono di prova Vabbè Non la guardo neanche la flash Mi stun Se la flash è no Il touch, il touch E' qui, è qui Guarda, ve l'ho preso Guarda E' sto turno Non posso Bello, salto Guarda, dimme Di qui Di qui Un 2 top Minimo Full questo Trò è più inciso Uno che flanca l'hom Raga Questo è meno Questo è meno Umarth Il mustro Ma quello dietro di Mme E' qua Non muore 2 top Uno 40 42 allora non mi attacco più mid quello mi fa 80 di lente no no io non c'è così arrivo bene ti è superato dario che guarda entro sono entrato a terra a terra a terra il segno di attraverso la parola questo certo retta rotto loro arriva 70 lembra tentaremmo morto è morto è morto lo ucciso quello di corretto capo insieme a te capo insieme a te si è morto un forretto un forretto arrivo sulla loro altri due altri due un altro morto uno ancora uno è qui è qui è qui è sulla loro arriva arrivo ora urla urla dai hai fatto la telepla ho preso 3 conti su 3 però ho sparato molto molto più fermo ma dentro che lo taglia ovvero il bird nonostante ciò metto sempre il bird one shot sono entrato ma ce l'ho uno attaccato guarda 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 dietro è full ok ci sono uno ho ucciso lo sniper quattro one shot è l'ultimo è l'ultimo è l'ultimo ok vabbè entratene la hill 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 dov'è dov'è ok sono spawnati sono spawnati sono spawnati vado dal lato qui della hill guarda ti posso coprire matto uno qua uno qua guarda guarda becca per salire e rimango io qui arrivo arrivo da voi ragazzi sono camperato non mi hanno visto mi prezzi a fuoco occhio a lemba occhio a quella lemba 3 top e quello con le flame a destra guardatevi pure il middle eh no abbiamo noi le flame loro non ce l'hanno eh ma come non li ha finiti ne ho contato 3 ancora ne ha altri due dietro altri due dietro Matteo non è 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 ma come fa ma come fa quello a mettere il mio esetto con quattro io ho contatto io ho contatto praticamente l'ha caricato ma l'ha sparato non è ma ne ho uno qua giù vabbè vinciamo ma vabbè vinciamo vabbè vinciamo vabbè vabbè vinciamo vabbè 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 3 secondi alla flame è arrivo top eh devo pushare sto pushando sto perciò la mano a rosa non ha trovato un po' più scelta sassata la parte della barattina passione lui dietro dietro amato attraverso la domanda per fare per il film è stato fatto a dire che è la mia italiana da vittoria domanda e troppo esattere attraverso la roba passare la scuola giù un po' di rialzo scadone non volerò muovere sono per quello te l'avete in home? si è andato via sta stappando passa dal muro taglia da Nibon ma ti ricordo una cosa anche qua vale lo stesso discorso di re della colla è dal nostro lato è dal nostro lato praticamente solo se viene qualcuno e lo rianima chi lo può rientrare? al nostro lato non c'è nessuno buona forse avrà anche i due perché non hanno l'embar siamo in tre noi vado da mattia faccio il giro da dietro ok c'è uno middle ah va flanco questo in B ma dov'è questo vabbè no dietro dietro ragazzi hanno tagliato da middle dai come fa a non morire cazzo lo one bomb sono io che al certo c'è anche qui vi taglia uno vi taglia uno vi taglia uno fa un lato esparghi esparghi all'acchi quanti? due suee? due suee tre suee tre o no tre 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 che hanno ancora il cerchio tre che è subito posizione uno middle inserimi ma ce n'è uno arrivo buono buono sto a disturbare un po' che è fluent di dentro oh oh raga guardate il fluent qua il cerco il cerco il cerco il cerco ragazzi ho fluent qua no non mi ha sparato in frusta sta scappando via sto andando a terra no 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 a terra 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 no no vai no ma vai no ma vai no ma cruda però io l'ho detto sembra quasi che a volte non ho ascoltato non ho prossimo rotqué si via arriba Stai fiorito Ah stai fiorito Ma mica moriva poi Tanto va al nastro Ma questo è camperato qui È morto che palle Mi ruolo po Cioè non c'è più Eh muoio muoio Troppo C'è uno sulla Preso preso Un colpo quello Vado giù Matteo 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 Eh vabbè l'abbiamo perso Eh no Perché perdiamo perché continuiamo a push Nello stesso identico punto come dei ritardati Eh va bene Non pigliarci però viene da fissarsi A puntare lì Io qui non ho sentito l'audio Di uno che mi ha fatto il giro Capito? Cioè non ho proprio sentito i passi Alla rapata da Matteo Taglia uno Ho tirato la flash Che suonato Che suonato Non suonato No no Cci cc Dai 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 cifrò tu lanza Rebecca È rossosso eh E suonato solo lui quei down Guardate quello Guardate quello Che suonato Non posso Buona Uccidi i due Oh la loro Oh la loro Spattate per favore No vabbè che morti di me Ragazzi Mi ha tolto la loro Taglio middle 2 Bravo Dai sono scattato A tripla cogliardica Ragazzi io non ho più vite Non lo abbiamo Non lo dubbi Darietto Darietto 3 verso top 1 shot 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 2 shot Non lo trovate Eh si sono 4 da noi ragazzi Desi sono S tutaj Mincate Dove siete? A morire Morire 1 shot Avanti 8 in 3 Ro Ah no Ah no quanto sono scarsa l'aria non ha più vite una pusha da me non sono andato sotto di me 5 era campanata a destra madonna mia l'argomento scontriano l'argomento 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 di merda sull'argomento domanda sull'argomento stanno andando per sé io ragazzi no 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 non c'è un po' solo fate ne abbiamo anche uno dietro no ragazzi dietro ragazzi sono morto quanti hai fatto impossibile? 3 eh sì eh l'ho preso in fatto è sempre sì no ma quanti? uno top b uno top b no 2 middle no 2 middle no no qu'è sfida ma non guarda che fa schifo sump 1 classità 2 classità 4 maole dominati 2 classità 3 maole dominati BABY HIT IT! BABY HIT IT!